Partirà domani anche a Pesaro la campagna di vaccinazione riservata ai cittadini, ovvero tanta. Ci troviamo nel quartiere Celletta e alle mie spalle il centro socio-culturale Monaldi, sede in cui verranno effettuati i vaccini. Diversi locali predisposti all'interno della struttura, partendo dall'area di accettazione in cui verrà raccolta la modulistica compilata dagli utenti e che si invita a scaricare preventivamente dal sito internet dell'Asur Market. Di seguito la sala con le otto postazioni per la somministrazione del vaccino, adiacente alla quale è collocata la zona di attesa dove gli over 80 dovranno sostare circa un quarto d'ora dopo l'inoculazione del siero. Saranno più di 2.500 gli utenti a ricevere la prima dose Pfizer al centro Monaldi nei primi quattro giorni di somministrazioni dedicate agli over 80. Abbiamo individuato questo luogo, che è un luogo conosciuto da chi non è più giovanissimo. Con il servizio di viabilità e la polizia locale abbiamo organizzato una nuova viabilità temporanea e per questi giorni con il senso unico qui in via del cinema per dar modo alle auto di utilizzare non solo i parcheggi ma anche il lato destro della carreggiata. Ci auguriamo che l'adesione, come sembra, sia importante, che ci sia meno confusione possibile, anche se visto già in questi due o tre giorni di allestimento molti anziani vengono a vedere dov'è, dove sarà, chiedono informazioni. La modulistica da compilare non è semplicissima, ci sono a disposizione anche i volontari della protezione civile per compilarla. Ci sono scesi in campo anche le farmacie comunali per raccogliere le adesioni a questa campagna vaccinale. È il primo passo importante per riuscire a battere in maniera definitiva questo virus. La prima ipotesi della regione era Vitri Frigo Arena, ovviamente anche quello è un contenitore importante, però magari le partite, gli allenamenti, le scalinate che non sono semplicissime, magari arrivavi, c'è l'ascensore, è chiaro ci sono tutti i servizi per garantire anche a chi ha meno mobilità l'accesso nella struttura, però un ascensore, magari un giro un po' troppo lungo e un contenitore forse esagerato, invece qua, anche se un pochino più piccolo, però ha tutti i servizi che l'Asur ci ha richiesto. Questo è il primo passo, poi da qui davanti ci saranno altre situazioni dove si farà una vaccinazione di massa e il Comune è sempre a disposizione per trovare altri luoghi. Da parte di Ancescao che gestisce, in qualche modo che coordina i centri sociali, c'è già arrivata la chiamata in merito alla loro disponibilità per mettere a disposizione altri centri sociali per fare la stessa operazione. Sulla partenza della nuova fase di vaccinazioni è intervenuto anche l'assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini, affermando che ad oggi sono quasi 80.000 le prenotazioni effettuate a livello regionale. Per i soggetti che non si saranno prenotati, ha proseguito l'assessore, le vaccinazioni saranno effettuate nei distretti e negli ambulatori dei medici di medicina generale, mentre solo per chi ha l'assistenza domiciliare la vaccinazione avverrà a domicilio. Sui numeri dei punti predisposti per la somministrazione del vaccino, nell'ultima seduta dell'Assemblea legislativa marchigiana è stata presentata un'interrogazione che ha visto come prima firmataria la consigliera PD Micaela Vitri, sostenuta poi da altri consiglieri democratici, volta a chiedere un'implementazione del numero delle strutture dedicate alla campagna, per agevolare gli spostamenti degli anziani residenti lontano dai grandi centri. Avere solo tre punti vaccinazione per gli ultraottantenni a Pesaro, Fano e Urbino in tutta la provincia mi sembra inconcepibile. Per questo in consiglio regionale ho presentato un'interrogazione chiedendo all'assessore di aumentare la rete, utilizzando ad esempio la Casa della Salute di Vallefoglia e gli ospedali di Polo. Purtroppo però la risposta è stata inspiegabilmente negativa. Ciò significa che chi abita da Montellabate fino a Tavuglia dovrà venire a Pesaro per il vaccino.